Stasera, occhi aperti sulle elezioni. Infatti abbiamo con noi in studio il candidato che corre come indipendente sostenuto dalle destre, dalla parte destra del centro, Antonio Micheletti. Buonasera Micheletti. Buonasera. E l'indipendente che corre come candidato sostenuto dalla parte centrale delle sinistre e da una parte del centro orientata a centro-sinistra, Michele D'Antonio. Buonasera. Buonasera a lei. E poi, una sorpresa per entrambi. Ma prima, una veloce battuta. Micheletti, in due parole il suo programma. In due parole. Meno clandestini, meno traffico, meno scippi, meno tasse. Queste sono le cose che farò subito dopo aver vinto le elezioni. D'Antonio? Meno, meno, meno. Scusami, ma tu sei proprio il candidato del meno. Io invece sono il candidato del più. Più viabilità, più italiani, più sgravi fiscali e più sicurezza. Ma adesso occhi aperti perché sta arrivando il nostro terzo fantasioso ospite, Nicolino Amore. Buonasera, Amore. Buonasera. Un guastatore di cui si sono. Prego, si accomodi, Amore. Di cui si sono, si accomodi, di cui si sono occupati i nostri giornali per le sue seguitissime performance di politica spettacolo all'aria aperta. Allora, Amore, ha sentito i nostri politici ufficiali? No. Che cosa ne pensa? Che devo pensare io? Pensano a tutto loro. Qua tutti promettono tutto a tutti. E poi non sanno neanche quanto costa un chilo di pane. Via, non mi faccio il conquista. No, no, rispondo volentieri. Un chilo di pane costa da un euro e trenta a tre euro e trenta al chilo. Dipende dal pane, è ovvio. Un litro di latte. A questo rispondo io volentieri. Da un euro e dieci a un euro e sessanta al litro. Mezzo chilo di pasta. Zero sessantotto, un euro e dieci al chilo. Prezzo medio di un chilo di riso? Due euro e cinquanta al chilo. Il prezzo medio di una tangente? Dal dieci al dodici per cento. No, anche il quindici dipende. Certo, certo. Pubblicità. Ma che dici? Ma voi siete due polli, eh? Ma adesso sospendi il micro. Adesso sì, prima no. E beh, il dieci per cento. Sì, giocate al ribasso. Perché? L'accordo non era di non scendere sotto al quindici. Ma fammi piacere. E che cazzo? Questa è concorrenza sleata. Ma stai, ma fammi piacere, Anto. Ma tu veramente fai? Ma tu mi hai fatto fa questa? Ma perché vuoi dire che... Ma lei fa stu cosa? Napoli è cambiata da così a così. Lava vetri che fanno lo scontrino. Non si vede una cicca per terra. Tutti mettono il casco. Ma com'è potuto accadere? Finalmente è successo con Nicolino. Il prezzo medio di una tangente? Dal dieci al dodici per cento. No, anche il quindici dipende. Voi siete dei polli, eh? Il sindaco, le cose lui da solo non le poteva mai cambiare. C'era la voce che volete liberalizzare la droga, è vero? Lei o è un ingenuo, o è un sesso! Mi vogliono incastrare. Ma chi trama nell'ombra per distruggere la sua vita? Con la mafia e con l'amor, bisogna confine. Non la pensa così Nicolino, infatti dallo e dallo si spezza pure il metallo. Ha suscitato tanto clamore negli Stati Uniti.